Una bisarca questa mattina ha perso del gasolio durante il suo tragitto provocando incidenti e disagi. È accaduto a Sala Consilina nella frazione di Trinità dove due auto si sono tamponate a causa della perdita di gasolio dal serbatoio di un auto articolato che avrebbe perso il tappo di chiusura del serbatoio. Secondo quanto ricostruito alcune persone che si trovavano sulla strada sono riuscite a fermare il conducente della bisarca e nel frattempo del serbatoio del mezzo pesante è fuoriuscito altro gasolio che ha completamente invaso la strada all'altezza di un incrocio. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina guidati dal capo squadra Luigi Morello per mettere in sicurezza la strada. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Sala Consilina per deviare il traffico su un'arteria secondaria ed i carabinieri per i rilievi del caso. Le due persone rimaste ferite nel sinistro fortunatamente non sono in gravi condizioni.